Il Consiglio dei Ministri ha approvato un altro provvedimento che io considero molto importante, riguarda il Piano Mattei, cioè il più significativo progetto strategico che questo Governo abbia messo in campo a livello internazionale, a livello geopolitico. Il Piano Mattei, ormai lo sapete, è una piattaforma programmatica operativa sulla quale costruire un parternariato equo e paritario con le nazioni africane per favorire lo sviluppo e andare alla base delle cause della migrazione. Abbiamo lavorato su questo piano fin dal nostro insediamento, dobbiamo arrivare ora alla sua stesura definitiva, alla sua finalizzazione, chiaramente raccogliendo il contributo anche delle nazioni africane, dei paesi terzi e portare quel piano in Parlamento. Per fare tutto questo, visto che il Piano Mattei coinvolge molti livelli di Governo, ha bisogno di un coordinamento centrale, abbiamo istituito e organizzato un'apposita governance, previsto una cabina di regia a Palazzo Chigi, è presieduta da me o in subordine dal Ministro degli Esteri, che è composta da tutti i ministri competenti, dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, dalle varie agenzie e società dello Stato che si occupano di cooperazione e sviluppo, rappresentanti delle imprese a partecipazione pubblica, università, ricerca, terzo settore, esperti di materie, delle materie che verranno trattate. Questa cabina di regia avrà il compito di coordinare l'attività del Governo, aggiornare il piano, monitorare la sua attuazione negli anni e approvare la relazione che ogni anno andrà mandata in Parlamento. Insomma, per un progetto serio serviva un'organizzazione seria e questo è un progetto serio, perché il piano Mattei rientra in una strategia più ampia di questo Governo ed è propedeutico a molte altre iniziative che stiamo portando avanti. Penso alla conferenza Italia-Africa che abbiamo in programma per il prossimo gennaio, penso ai seguiti della conferenza su sviluppo e migrazioni che abbiamo organizzato a Roma lo scorso luglio, ma penso soprattutto al 2024 quando arriverà la Presidenza italiana del G7, in cui chiaramente l'Africa e il tema delle migrazioni saranno centrali, chiaramente la Presidenza italiana del G7 si sviluppa lungo tutto l'anno con diverse iniziative dei vari ministeri. Il momento centrale, cioè il G7 dei leader, approfitto per annunciare che sarà dal 13 al 15 giugno del 2024 in Puglia nella Valle d'Itria a Borgo Ignazia.